Sulla gazzetta ufficiale quarta serie speciale numero 5 del 18 gennaio 2022 è stato pubblicato il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 15 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico amministrativo del corpo della guardia di finanza. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità. Tre posti per amministrazione, un posto per commissariato, quattro posti per telematica, tre posti per infrastrutture, un posto per motorizzazione settore navale, tre posti per sanità. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni e in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione di lauree magistrali specialistiche attinenti alle specialità la quale si concorre. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12 del 17 febbraio 2022. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo https2.comcorsi.gdf.gov.it dove è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni.